Buongiorno a tutti e a tutte, mi è stato chiesto di fare un video per raccontare quello che sta accadendo in Italia di fronte all'emergenza coronavirus e anche per dare qualche valutazione politica di quello che è accaduto, di quello che si doveva fare e di quello che non si è fatto. Per motivi di sintesi io proverò a procedere a punti sperando di potervi essere utile. La prima questione è semplice. Esiste una finestra di opportunità, così la chiamata l'OMS, tra il momento in cui il virus è comparso in Cina e il momento in cui è comparso in Europa ed in Italia. Parliamo di circa un mese e mezzo di tempo. In questo mese e mezzo il compito dei governi avrebbe dovuto essere stato quello di informare la popolazione, fornire indicazioni precise alla popolazione, al mondo sanitario, procurarsi gli strumenti di protezione individuale. Era un'opportunità nella quale si conoscevano notizie molto importanti. Ad esempio si sapeva già come si trasmetteva il virus e quindi sarebbe stato possibile attivare tutta una serie di misure di prevenzione e preventive. Vediamo gli errori invece che sono stati fatti. Primo, è stato detto che per le persone che temevano di essere venute in contatto col virus il numero da chiamare era il 112. Il 112 è il numero per qualunque situazione di emergenza. È assurdo concentrare migliaia di telefonate su un numero telefonico che deve essere mantenuto libero per chi ha altre patologie dall'infarto oppure altre situazioni che possono essere di grande tensione. Per esempio qualcuno che è stato scippato, che vuole avvisare i carabinieri e via dicendo. Quindi doveva essere identificato un numero verde dedicato unicamente a fornire informazioni sul coronavirus e a quel numero verde doveva lavorare del personale formato ad hoc su questo tema. Questo non è stato fatto solo dopo la comparsa del caso di Codogno, cioè del primo caso di positività non su un cittadino cinese ma su un cittadino italiano, quindi 21 febbraio a Codogno, solo dopo quella data allora sono stati attivati numeri verdi nazionali e regionali. Seconda questione, sarebbe stato necessario immediatamente procurarsi i dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti e camici monouso, mascherine professionali. Non è stato fatto nulla di tutto questo, non si è andata a cercarle sul mercato internazionale, non si è andata a favorire la produzione nazionale, anche obbligando i produttori ad aumentare la produzione, favorendoli, sostenendoli economicamente, intervenendo a modificare alcuni cicli produttivi per riconvertire altre produzioni in produzioni di mascherine. Assolutamente nulla. quando il virus è arrivato ha trovato il mondo sanitario non solo questo, completamente impreparato. Ma poi c'è stato un altro passaggio grave. L'Italia ha la miglior rete di medici di famiglia sul territorio. Questi medici hanno tutta una convenzione nazionale con lo Stato e ogni cittadino italiano, ogni migrato regolare e ogni minore immigrato anche regolare devono essere iscritti a un medico di base, a un medico di fiducia, a un medico di famiglia che ha la sua cartella clinica, conosce la sua storia, ha l'anamnesi e via dicendo. Quindi questi medici sono il primo contatto con la popolazione, il primo posto dove le persone vanno a chiedere consiglio, suggerimento e dove vanno a farsi visitare. È la prima linea di difesa fondamentale che fa parte della riforma sanitaria del 78 quando ci fu istituito il servizio sanitario nazionale che ci invidiava tutto il mondo. Bene, questa prima linea di medici è stata abbandonata completamente a se stesso. Non sono state fornite loro nessune informazioni e soprattutto non sono stati dati a loro gli strumenti di protezione individuale, neanche le mascherine. Per cui che cosa è accaduto? Che i primi a infettarsi sono stati i medici, i medici di famiglia e i medici del pronto soccorso. Anche lì non è stata data nessun tipo di informazione. Noi la sera del contagio di Codogno inizialmente avevamo tre persone contagiate, poi sei, poi quattordici di cui cinque medici e tre pazienti che erano ricoverati nello stesso ospedale dove è stato ricoverato la persona colpita da coronavirus che si sono infettati in ospedale. Misura successiva è stata la chiusura delle scuole, ma solo delle scuole. E questo è stato un altro errore enorme, soprattutto in una società come quella italiana dove la famiglia, il nucleo familiare allargato intergenerazionale conta ancora molto. Perché che cosa è accaduto? Le scuole sono state chiuse, i posti di lavoro sono rimasti aperti e decine di migliaia di bambini hanno trascorso la loro giornata affidati ai nonni. Ma noi sappiamo, ma si sapeva già allora, che da un lato è più difficile che i bambini si infettino, d'altra parte quei bambini che si infettano molto raramente evolvono verso la fase sintomatologica, ma possono avere questa infezione senza mostrare alcun sintomo, in modo asintomatico al massimo con qualche lineetta di febbre, ma possono trasmettere il virus. Allora migliaia di bambini sono stati vicini a migliaia di persone anziane che possono avere già il loro organismo compromesso, che magari hanno patologie croniche debilitanti, che possono essere immunodepressi e così è stato facilitato il passaggio dai bambini ai nonni. Questo è un gravissimo errore. Ad esempio in altri paesi come in Norvegia, quando hanno chiuso le scuole, hanno chiuso contemporaneamente i luoghi di lavoro. Non solo. E poi hanno messo a disposizione per i figli di coloro che devono comunque lavorare perché forniscono servizi essenziali le scuole aperte con qualche insegnante che guardava questi bambini, per non farli stare a casa dai nonni. Quindi in Italia è stato fatto su questo aspetto un errore gravissimo. A questo punto superata la linea dei medici di base, che sono stati lasciati totalmente abbandonati, abbandonati a se stessi. Però, attenzione, non è un caso. Andiamo indietro. Agosto del 2019. In Italia c'è ancora il governo tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, quindi partito di estrema destra, razzista eccetera. Nell'agosto del 2019 il numero 2 della Lega, Giorgetti, dichiara i medici di famiglia sono superati, la Convenzione nazionale in sostanza è superata perché il cittadino se vuole andare dal medico guarda su internet e fissa l'appuntamento direttamente con lo specialista. Una follia che voleva dire andare alla distruzione del servizio sanitario nazionale, ma la Lombardia è governata proprio dalla Lega insieme a Forza Italia e l'altro partito della destra italiana. E quindi se hai in testa che il medico di base, il medico di famiglia non serve, non gli dai neanche gli strumenti per intervenire. Ed è stato un errore incredibile. Superata questa prima linea con molti molti medici ammalati, il virus è arrivato a impattare gli ospedali. Perché oggi possiamo dire che su 100 persone colpite dal virus, una ventina circa evolvono verso situazioni sintomatologiche. Devono essere ricoverate. E qui il virus si è scontrato, anzi ha trovato un servizio sanitario non in grado di rispondere a livello necessario. Perché? Perché i letti per la medicina d'emergenza, le manate infettive erano pochi. 5.090 in tutta Italia. Ma c'è una ragione. Allora noi abbiamo per esempio Lombardia che è la regione che è la più colpita in assoluto in Italia. È la più grande, ha quasi il 20% della popolazione italiana ed è la più ricca ed è governata da 20 anni dalla destra. Noi in questa regione che cosa abbiamo? Che il 40% della spesa sanitaria a carico della regione è destinata a strutture sanitarie private accreditate, cioè convenzionate con le strutture pubbliche. Cioè vuol dire che queste strutture lavorano come privati ma inseriti nel servizio sanitario nazionale il quale poi rimborsa tutte queste strutture private per le visite, gli esami, gli interventi che fanno. E il rimborsa al privato costa molto di più che il pagare quella visita presso il servizio sanitario nazionale. Per vari meccanismi i costi per singola malattia sono maggiori nel privato convenzionato che nel pubblico. Ma la logica del privato è diversa da quella del pubblico. I fondi finanziari, le banche, le multinazionali che investono nella sanità privata investono per avere profitti. E la sanità privata avrà profitti quanto più ci sono malati, quanto più può curare. Per cui primo, è antitetica alla sanità privata l'idea di andare a investire nella prevenzione. Assolutamente. Anzi la prevenzione li priva di potenziali clienti, perché ormai li chiamano così, cioè malati. Secondo, la sanità privata interviene su quei settori della sanità che sono maggiormente produttivi in termini di profitto, che quindi sono gli interventi chirurgici, i malati cronici, non sono sicuramente il pronto soccorso e i dipartimenti d'emergenza. Quindi che cosa c'è? Che questi sono dati di qualche anno fa. Su 100 strutture sanitarie pubbliche 60-70% è il dipartimento d'emergenza e pronto soccorso. Su 100 strutture private si arrivassero al 30% con l'emergenza e il pronto soccorso. E quindi l'impatto è andato praticamente quasi tutto sul pubblico e sulle poche strutture private convenzionate. A questo c'è da aggiungere che la logica del pubblico, che dovrebbe essere opposta a quella del privato, perché il servizio sanitario pubblico più interviene nella prevenzione, meno la gente si ammala, più il servizio sanitario risparmia, quindi guadagna, perché il servizio sanitario è pagato con la fiscalità generale. Ma in Italia il servizio sanitario pubblico è subalterno al privato e ha assunto l'ideologia e il modo di funzionare del privato. Prima da noi si chiamavano USL, unità sanitarie locali, adesso si chiamano ASL, aziende sanitarie locali. Funzionano con una logica di mercato. I direttori generali delle ASL vengono nominati per vicinanza politica a chi governa, ma vengono valutati sulla parità di bilancio, non sul servizio fornito, sulla capacità di venire incontro all'esigenza della popolazione, sulla capacità di abbattere le liste d'attesa. E quindi anche il pubblico, assumendo la logica del privato, ha tagliato completamente i servizi di prevenzione. Siamo la nazione tra i paesi Ocse che stanzia la percentuale più bassa sulla spesa sanitaria nazionale destinata alla prevenzione. E questa è la conseguenza della privatizzazione della sanità da una parte e della distruzione della sanità pubblica dall'altra. Per dare un'idea, noi abbiamo avuto la riforma che ha portato al Servizio Sanitario Universale nel 1978, invidiata da tutto il mondo. Nel 1981 in Italia c'erano 530.000 posti letto. Oggi ne abbiamo meno di 230.000, considerando pure il privato convenzionato. Quindi il servizio sanitario è stato completamente distrutto. In più è stato inserito il numero chiuso per l'iscrizione a medicina, il numero chiuso sulle specialità che sono state fortemente ridotte. Il risultato? Non abbiamo medici. In queste ore vengono chiamate a lavorare in ospedale le persone che si sono laureate tre giorni fa. Ed addirittura è stato abolito l'esame di abilitazione alla professione medica per mettere subito negli ospedali le persone neolaureate. Ovviamente non è che vengano assunte, vengono chiamate o a fare tirocini volontari o pagati pochi euro all'ora con contratti che durano giusto il periodo dell'emergenza. Una assoluta follia. Attualmente in Italia si prevede questo, che devono stare in quarantena ovviamente le persone che si sono infettate, ma devono stare in quarantena tutti coloro che sono venuti in contatto con persone che si sono infettate. Tutte tranne gli operatori sanitari. Cioè se un medico o un infermiere lavora in un ospedale e in questa equipa un medico o un infermiere o un operatore sanitario si è infettato, gli altri devono andare avanti a lavorare fino a quando non avranno dei sintomi di malattia, dei sintomi di sufficienza respiratoria o febbre che arriva a 37,5. Solo a quel punto gli sarà fatto il tampone ed eventualmente a quel punto per forza di cose dovranno stare a casa se risulteranno positivi. Per il resto devono andare avanti a lavorare. Perché? Perché non avendo preso nessune precauzioni prima, cioè il governo non ha mandato nessun dispositivo di protezione individuale, mancando oggi i presidi individuali di difesa, di protezione individuale dentro gli ospedali, molti lavorano senza nulla, se vanno a fare il tampone ai medici che sono stati vicini, a un medico che si è infettato, chiudono reparti. Ma non è che puoi permettere che il personale sanitario si continui a infettare, che poi vai a infettare anche altri pazienti, i pazienti oltre che colleghi e quindi avremo sempre più personale sanitario a casa. Il personale sanitario è un bene collettivo che andava tutelato perché poi può curare le altre persone. Questo non è avvenuto, quindi oggi un medico continua a lavorare fino a quando non arriva ai sintomi. Potete immaginarvi che cosa sta succedendo dentro le strutture sanitarie. Non solo. Negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono state chiuse varie strutture pubbliche prima del coronavirus. In Lombardia ci sono stati molti comitati che hanno protestato, ma la logica era chiara. Chiudono le strutture pubbliche e poi nella stessa zona aprono delle strutture private con gli stessi reparti che sono stati chiusi nel pubblico. Di fronte all'impatto che c'è stato adesso, la prima cosa da fare era riaprire quelle strutture chiuse e farle funzionare. Non l'hanno fatto. Perché non l'hanno fatto? Perché avrebbero dovuto dire che quei cittadini avevano ragione e una volta aperte quelle strutture sanitarie, quegli ospedali, sarebbe stato per loro difficile chiuderle poi nei mesi seguenti. Invece no, montano delle tende o cercano di costruire nuovi ospedali che saranno pronti fuori tempo massimo. Tutto ovviamente per favorire le strutture private. Io che tengo anche una trasmissione radio, Medicina Democratica, varie associazioni, hanno chiesto poi che tutte le strutture private fossero coinvolte nella lotta contro l'epidemia. Che cos'è accaduto? Che sono state coinvolte le strutture private accreditate, ma non quelle private fuori dal servizio sanitario. Quelle solo private se ne sono fregate. Noi abbiamo chiesto che fossero requisite immediatamente quelle strutture. Zero. Ma c'è anche un altro problema. L'8 di marzo la regione Lombardia ha stabilito che tutte le strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate possono cancellare le visite e gli esami diagnostici già fissati per le altre malattie che non sono urgenti. Questo ha voluto dire che centinaia di migliaia di esami sono stati cancellati. E dove è andata la gente? Quelli che possono pagare a fare le visite del privato. Che così ci continuano a guadagnare. E noi abbiamo chiesto al governo di non solo requisire le strutture private che non collaborano, ma di imporre alle strutture private di svolgere le visite ai cittadini ai quali sono state cancellate le visite nel servizio sanitario nazionale e che poi lo Stato avrebbe pagato le strutture private al costo che quelle visite avrebbero avuto sul servizio sanitario nazionale. Cioè allo stesso costo. Anche questo non è stato assolutamente fatto. E adesso ci troviamo in una situazione con centinaia di migliaia di persone che non possono curarsi, con altre persone che vanno alle strutture private, con le strutture private accreditate che da un giorno all'altro vedano aumentare il loro accreditamento, cioè vengano accreditati altri reparti, col risultato che quindi traggono ulteriore vantaggio. In più carenza, oltre che di personale sanitario, carenza di farmaci. E certo, la struttura dell'industria farmaceutica in tutto il mondo ormai è privata. Noi avevamo strutture nazionali, non esistono più. Ci sono i brevetti, quindi il monopolio nella produzione dei farmaci. Per 20 anni le aziende possono stabilire il prezzo. A questo punto il nostro governo è sul mercato internazionale a cercare farmaci, ovviamente senza trovarli. Allora, questi risultati dipendono da una medicina, da un servizio sanitario nazionale che è sempre stato più distrutto e ridotto ai minimi termini, da una privatizzazione enorme che è andata avanti negli ultimi 20 anni e che ha influito sia sulle strutture disponibili sia sulla forma mentis di governare la sanità. E stiamo pagando un prezzo fortissimo. Io mi auguro che finita questa emergenza si riapra il dibattito e si riesca a capire che la cosa fondamentale è avere un servizio sanitario nazionale universale pagato dalla fiscalità generale e che a fianco della cura possa sviluppare molto tutto quello che è la medicina preventiva, che è fondamentale oggi e lo sarà sempre più nel futuro. Ma questa evidentemente è una battaglia politica difficile, molto difficile da realizzare, ma questo deve essere l'obiettivo di tutte le forze popolari e di tutte le forze di sinistra e non solo nel nostro paese. Grazie.